Discariche a cielo aperto e rifiuti dati alle fiamme a pochi passi dalle abitazioni con i conseguenti rischi per la salute e l'incolumità dei residenti. L'altra faccia della Gela che tenta di ricostruirsi l'immagine attraverso la grande occasione della mostra della nave è quella delle periferie. Sempre più terra di nessuno, abbandonate al loro destino e lontane dai riflettori della politica. Quello di Albani Roccella ad esempio è un caso emblematico. Il quartiere popolare è invaso dalle discariche a cielo aperto e totalmente sommerso dalla vegetazione che cresce incontrollata. I rifiuti sono ovunque anche davanti i cancelli dell'istituto comprensivo intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e spesso i cumuli vengono dati alle fiamme mettendo il rischio agli abitanti della zona. A farne le spese proprio la scorsa notte uno degli abitanti del quartiere è sceso in strada nel tentativo di domare uno dei roghi. Ho il braccio bruciato perché hanno dato fuoco io per domare le fiamme e giustamente sono sceso che c'era puzza e per domare le fiamme mi è scoppiata una bomboletta e c'ho il braccio bruciato e la faccia pure bruciata. Gli incendi purtroppo qui sono all'ordine del giorno quasi? Ogni momento sono gli incendi come il tempo che vengono i pompieri lo accendono dall'altra parte quindi qua stiamo vivendo in una situazione molto molto degradata. Tutti quanti abbiamo bambini però giustamente i bambini non sanno dove andare a giocare pure come può succedere a me può succedere a chiunque. Ma non sono solo i rifiuti a preoccupare gli abitanti del quartiere popolare. Qui i marciapiedi sono totalmente ostruiti dalla vegetazione che è cresciuta incontrollata e ratti e parassiti invadono le case spesso anche prive dei servizi essenziali. Abito qua dal 2002 allora mi hanno detto che dovevano fare i servizi nel piano triennale ma sono passate 20 anni e ancora non c'è nessun servizio. Mi manca la fogna, l'acqua, il metano, la luce esterna me la fanno pagare senza che c'è niente perché il contatore ce l'ho e mi fanno pagare anche la luce esterna e manca qualsiasi servizio non c'è niente nemmeno l'acqua che a volte qualcuno mi dice acqua non c'è niente abiti in campagna. No abito in città a Gela siamo al bani roccella è dimenticata da tutti. Una situazione intollerabile più volte denunciata dai residenti del quartiere senza però ottenere alcuna risposta. Siamo abbandonati completamente non ci sono giochi per bambini perché abbiamo tanto verde comunque sporcizia dappertutto non c'è pulizia non c'è nulla siamo solamente disagiati. Noi cerchiamo di fare attenzione per quello che possiamo fare però succedono anche incidenti perché non è che siamo addetti al lavoro siamo cittadini e dobbiamo fare il lavoro degli altri. I residenti adesso lanciano un appello all'amministrazione affinché si intervenga nell'immediato. Solo pulizia non vogliamo noi chiediamo niente pulizia e basta.